Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Francesco Cavaliere e questo è il mio primo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere tutti i miei video. Dato questo, let's go! In questo video vorrei parlarvi di quello che porterò sul mio canale mentre giocherò a Fortnite. Poi porterò anche video insieme ai miei amici. Ora in questa parte dovrei spiegare la volta portare la mano al canale. Vado al fattoria e sul mio canale porterò molti videogiochi come Minecraft, Portal Knights e vari videogiochi. Poi farò anche scherzi e charge in portile e ora vi faccio vedere la partita. Vediamo come va. Spero dirlo un lagare come faccio sempre. Buon bacio. Mi sto allargando. Ho fatto il livello 64. Compa carica. Compa carica. Buono. 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 Buono? Buono. andò a passare di riscola da un po' alla tenda veramente posso si possono guidare le macchine let's see in the kitchen model there ok 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 che se non miotano guidare loro cercano autoemozionativo io vedere che miotano guidare che sta guardando oh che 90 è che signore sto escogendo la del group 10.50 faccio un altro game allora vado subito in un posto dove ci sono molte scusate ma vissà si è buggato il mouse quindi io voglio di tornare un attimo ok metto pronto ora vado in un posto dove ci sono le macchine così devo provare a guidarmi in una in un posto 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 Non vado subito a scontare, però lui sta prima e poi vado a scontare. Non vado subito a scontare, non vado subito a scontare. Non vado subito a scontare, non vado subito a scontare. Non vado subito a scontare. No, no! Allora, per oggi noi ci fermiamo così. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci vediamo nel proprio video.